Ciao, buongiorno, io sono Marzia Carrozzo e sono molto felice di invitarvi ad assistere con noi da oggi alla nascita di Camminamenti, piccola collana di scrittura in movimento, una collana di poesia e scritture contemporanea e diretta da me che sarà edita da Curumuni Edizioni. Gli autori che hanno già accolto il nostro invito sono tanti e ci onoreranno della loro presenza e della loro professionalità, ma volevamo partire da due autori straordinari, Jumana Haddad e Nabil Salamè. Il nostro primo numero, infatti, Al-Makam, la storia di Naima o del corpo che si rivela, vedrà le poesie di Jumana Haddad, poetessa araba tra le più note del panorama arabo contemporaneo, una donna, una poetessa, una scrittrice, una giornalista nota non solo per la forza dei suoi versi, ma soprattutto per il coraggio delle sue idee e per la determinazione con cui sa portarle nel mondo. E avremo un saggio di Nabil Salamè, voce, autore, fondatore di Radio Dervish, ma anche un giornalista, un traduttore, un docente di etnomusicologia, un intellettuale di raffinata sensibilità. Tutto questo sarà non soltanto un libro, ma un bellissimo reading che approderà a Lecce il 21 giugno prossimo con i nostri due autori. Tutto quello che voglio chiedervi è di assisterci appunto, nel senso più etimologico del termine, di contribuire e collaborare al nostro progetto. Tutte le informazioni le trovate al link e io non posso far altro che ringraziarvi e augurarvi buona primavera.